salita una paurosa percorso non sembra neanche più lo stesso guardate che spettacolo con la neve allora siamo a castaniero 2 dicembre 2020 temperatura zero gradi stiamo facendo la risalita questo circuito che oggi è particolarmente bello perché innevato un saluto da vostro stile ragazzi a bomba azzard Grazie a tutti Grazie a tutti